Dal Cotugno ai ricercatori e medici del Pascale con il professore Ascerto in testa, dalla Federico II alle aziende della logistica fino a quelle del Tessile. Napoli e la Campania dà un mese a questa parte eccellenze mondiali e nazionali per fronteggiare l'emergenza Covid. Il sistema di gestione della pandemia messo in campo dal Cotugno è stato studiato e preso ad esempio nel mondo non soltanto per il contenimento del virus, con un solo operatore sanitario ad oggi contagiato in un mese, ma anche per la cura dei pazienti, molti dei quali già dimessi. Stesso discorso per il Pascale, con la cura Ascerto tra le armi più efficaci per sconfiggere il virus. Molte anche le aziende che si sono riconvertite per produrre macchinari salvavita, mascherine e gel igienizzanti. Tra gli imprenditori che stanno dando il loro contributo anche Ugo Cilento, che per riaccendere il senso di unità nazionale ha disegnato una cravatta storica per un momento storico per l'economia italiana. Si tratta di una cravatta già progettata e realizzata per i 150 anni della Repubblica Italiana dalla Maison Partenopea, una cravatta omaggiata in questi giorni al Premier Conte, come spiega Ugo Cilento ai nostri microfoni. Questa cravatta è stata realizzata e dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, nove anni fa. Ho deciso di rieditarla in quanto la bandiera italiana è simbolo di unità nazionale, di forza e di tradizione. Ho avuto il piacere di omaggiare il Premier in questo momento così drammatico nazionale, che non si vedeva dal dopoguerra. Sono molto contento che il Premier l'abbia indossata durante il DPCM nazionale e durante la trasmissione della BBC. Sulla palla principale vi è la bandiera italiana, ma a differenza delle cravate tradizionali, che oggi vengono prodotte con la bandiera italiana, la differenza è che la cravatta Cilento porta la bandiera decentrata sul lato destro della cravatta. Sul codino invece vi è la bandiera italiana e il numero 150 a segnare l'anniversario.